Andy Warhol a Vieste e la mostra antologica proposta dal comune con il patrocino della regione Puglia prodotta e curata dalla Galleria di Arte. Giuseppe benvenuto in collaborazione con il Polo Culturale. Nell'esposizione dedicata al padre della pop art saranno esposte oltre 40 opere originali, molte delle quali provenienti da mostre museali. Andy Warhol a Vieste ripercorre la carriera del leggendario artista, icona indiscussa del mondo dell'arte, polietrico e centrico. Non ha mai temuto il giudizio dei critici e ha saputo portare l'arte in una nuova dimensione, quella popolare. Con la sua ricerca incessante, alimentata dalle sue stesse ossessioni e da un'innata vena artistica, Warhol ha elevato ad opera d'arte l'oggetto più comune. Ha messo a nudo il potere del consumismo e ha svelato il potere del colore pop. È divenuto lui stesso opera d'arte, un mito destinato a vivere per sempre. In mostra, una curata selezione di opere evidenzia l'assoluta attualità, a decenni di distanza, di temi e soggetti. La mostra antologica è in esposizione presso il Castello Svevo Aragonese, frutto della collaborazione con la Galleria d'Arte Benvenuto, offrirà ai nostri cittadini e ai visitatori la possibilità di ammirare oltre 40 opere originali di uno dei più grandi artisti del XX secolo, ha sottolineato il sindaco di Vieste Nobiletti. Warhol ha influenzato profondamente il mondo dell'arte e siamo orgogliosi di rendere omaggio alla sua genialità qui a Vieste da 23 marzo a 30 settembre, un'occasione da non perdere, conclude Nobiletti.